In questi mesi, da più parti, sono stati lamentati i problemi e i limiti della didattica a distanza o integrata. La tecnologia applicata alla scuola, insomma, non piace. Ma non ha l'ITES Vitale Giordano, che anzi ha colto i grandi vantaggi che i mezzi informatici possono offrire per la formazione dei propri studenti. Venerdì scorso l'Istituto Bitontino ha infatti presentato alla stampa la sua prima C, la prima classe 3.0. Addio lavagna inardesi ai banchi tradizionali, che comunque continueranno ad essere utilizzati. Gli alunni ora potranno sedere su banchi mobili, predisposti per creare isole di varie grandezze, guardare uno schermo gigante interattivo e svolgere le loro attività sugli iPad forniti in comodato d'uso dalla scuola. L'Istituto, insomma, ispirandosi ai modelli del Nord Europa, strizza l'occhio al futuro e cambia faccia, mezzi e metodi. La tecnologia è ovviamente un mezzo, uno strumento utile e accattivante per gli allievi. L'obiettivo è quello di migliorare il loro apprendimento, facendolo diventare molto più attivo, molto più partecipato, molto più collaborativo. E questo è il nostro intento per il futuro, il progetto che stiamo seguendo. Già nel prossimo anno, come spiegato dal dirigente scolastico Francesco Lovascio, l'ITES darà vita a tre nuove classi 3.0. Noi crediamo che la tecnologia sicuramente sia utile per modificare il modo di lavorare degli insegnanti, aggiornandolo e accrescere la capacità degli allievi di studiare in maniera attiva e diventare protagonisti del processo di apprendimento. La tecnologia come effetto collaterale ha anche il fatto di rendere immediatamente disponibili la possibilità di fare didattica a distanza. A spiegare nel dettaglio le opportunità fornite dalla rete sono state le stesse docenti della classe sperimentale, l'animatrice digitale Anita Ruggero e la collega di scienze Maddalena Bellocchio. Device alla mano, le professoresse hanno mostrato i lavori realizzati dagli studenti con le app per l'apprendimento disponibili su iOS, attività che hanno permesso di sviluppare le loro competenze digitali e non. Gli stessi alunni si sono detti entusiasti della scelta e motivati. Lo slancio verso il futuro del Vitale Giordano ha convinto anche l'amministrazione comunale. L'assessore alla pubblica istruzione Marina Salierno ha infatti lodato l'iniziativa. Io la definisco una classe flessibile perché è dotata di spazi doni, attrezzature tecnologicamente avanzate, monitor interattivi attraverso i quali è possibile totalmente cambiare la metodologia della comunicazione. Quindi io penso che questo sia il futuro. Penso che la classe che è stata inaugurata oggi è solo un punto di partenza e non un traguardo.